A manche, attenzione al sfatto rosso, rosso, ancora il sfatto rosso spetterà una lettura e spazierà due minuti, ma non lo sapevo. Sono felici di respirare questi 18 gradi circa, ne sopra una temperatura quasi più male. Grazie a tutti. ...quella cospetà di esprimersi di per me. ...quella cospetà di esprimersi di per me. ...quella cospetta di esprimersi di per me.